Dico solo questo Aspetta aspetta ferma tutti C'è riassunto ma continuiamo Riassuntone che cos'è no Vabbè comunque con video Attenzione Guardiamolo però Ecco Manuela Ferrera Ambita Socialite Date un voto un voto Un voto da 1 a 10 Manuela Ferrera 13 13 su 10 va bene Ma come 13 1 a 10 13 va bene Io dico 8 Aspetta ha detto natiche Ho sentito dire natiche Lei 14 Va bene ma non vale 14 e mezzo Lo faccio Lo faccio Ma è un guai all'altra Sono identiche Sesso chirurgo Questo è Andrea Diamante di noi altri Andrea Diamante di noi altri Conosco bene 11 11 11 Ma che scala è Una Richter Ma che scala è Che dice Che dice Potrebbe starsene a casa direttamente Il grezzo Ma bene il grezzo Il grezzo E' uguale all'altro due 17 Bellissime donne 17 La Russia Anche Matteo Bellissima donna Anche Matteo Diamante Ho 4 bellissime donne Intenzionati a dare Gli Avengers Va bene Ma c'è la musica degli Avengers Oh chi fa Io faccio Thor No anzi faccio Mendova nera State attenti Io Spider-Man Ma hai già fregato Io faccio Iron Man Tu fai Iron Man Io faccio Camera Man No